Luca Ferretti il protagonista di questo punto con la tua parata sul calcio di rigore tanto ti chiedo di partire da quel momento non solo un rigore beato ma un rigore parato con un grande slancio sulla sinistra Sì, è stata una bella parata però c'è stato un lavoro dietro durante la settimana ci ho pensato tanto a dove poteva calciarlo perché sono uno che cerca di corare al meglio i dettagli quindi avevo già visto i rigori che calciavano e me la sono giocata così e è andata bene La fine del compito che in classifica serve a poco e Carpi francamente ha fatto poco per provare a vincere avete spinto un po' nel finale anzi oltre al rigore le occasioni migliori due nel primo tempo le ha avuto alla Pagnolise Ma che serve a poco non te lo so dire perché comunque era meglio sicuramente con una sconfitta così domani torniamo al campo più contenti anche se ci fa un po' rosicare il fatto di non aver vinto però venire qua e vincere sembra sempre così facile ma poi quando vai in campo non è così anche per chi ha visto la partita lo vede che non è facile venire qua a fare i punti loro sono tanto chiusi, giocano molto palle lunghe, è difficile venire qua il campo è brutto, noi siamo giocatori molto forti tecnicamente quindi si fa fatica a giocare su questo campo una settimana